salve cari amiche ed amici di youtube e di facebook ancora una volta insieme al vostro salve già commentando le ultime buone novelle che tanto buone non sono anche tanto novelle neanche sono sempre le solite cose parleremo circa l'esito del referendum ha vinto il fronte dell'assenza assenzionismo assenteismo insomma ha vinto il fronte del bene finissimo in tutta italia in tutti gli schieramenti politici la gente ha preferito non andare a votare quindi vinto l'assenzionismo fatto incredibile si è votato il 17 18 si è saputo che non si è raggiunto il cuore e già dal 18 o dal 19 si sapeva questa notizia di cui io vi faccio un breve riassunto versamento di petrolio a genova e allarme per il mar libure scritto il 18 aprile 2016 da alessandro profilio in ambiente eccetera e allarme a genova per una perdita di petrolio dal deposito della raffineria il plom a bussalla migliaia di litri di grigio si sono riversati nei torrenti e minacciano le acque del mar libure ieri mentre milioni di italiani si ricavano alle urne per diffondere i nostri per difendere i nostri mari migliaia di diritti di petrolio si riversavano nel torrente pol severa a genova minacciando le acque del mar libure incidente avvenuto intorno alle eventi di domenica quando era una condotta del deposito il plom in località feggino nell'entroterra genovese sarebbe fuoriuscito del petrolio riversandosi nei lì in a geno piano pianego e feggino e da quest'ultimo nel pol severa tuttora proseguono i lavori per cercare di ridurre i danni ambientali e limitare l'impatto sul mare per limitare il danno ambientale sono state sistemate panne di contenimento lungo le sponde del figino e del val pol severa e il mare secondo quando fermo una nota della imploma la fuoriuscita di greggio avvenuta a seguito della rottura di una tubazione interrata nell'oledotto che collega la raffineria di bussalla incidente così come si legge nella nota si è prodotto mentre era in corso il trasferimento di greggio da una nave nel porto petrogli di multedo verificato un calcolo di pressione il compagno è stato immediatamente interrotto bla 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 poi qua dice genova si rompe il tubo della raffineria il plomo petroio nel torrente pol severa l'allarme alle 20 di domenica 17 aprile mentre la gente si recava a votare referendum quei pochi perché la maggior parte anche a genova non sono andati a votare e non hanno fatto raggiungere il cuore infatti hanno votato più a sud che a nord gli abitanti di borzoli hanno sentito un boato poi hanno visto l'acqua diventare scura dalle finestre dei palazzi decine di persone assistevano alle operazioni non è il primo incidente di questo tipo petrolio nel fiume petrolio nel fiume erano le 20 di domenica 17 aprile quando nella sala operativa dei vigili del fuoco di genova è scattato l'allarme l'acqua nel rio fegino in pochi minuti si è colorata di nero l'odore a che in pochi istanti si è diffuso tra le case mentre il grigio ha cominciato a correre veloce verso il mare difficile in piena notte nel buio valutare le identità delle perdi della perdita e dell'inquinamento impossibile capire quanto petrolio sia arrivato fino a male come è stato possibile capirlo nel golfo del messico accedere stato un tubo dell'oleodotto della raffineria di hitlom gli abitanti di borzoli hanno sentito un boato poi hanno visto l'acqua del torrente diventare scura l'allarme è stato dato subito di gil del fuoco sono intervenuti immediatamente vabbè anche questo ci dice lo stesso petrolio nel poi c'è vera al lavoro a genova per evitare che arrivi il mare toti in arrivo tecnici is fra e gli hanno gettato una schiuma a questo petrolio i ministri galletti a il ministro galletti sono preoccupato per l'evoluzione che la situazione potrebbe avere nelle prossime ore seguo la vicenda in prima persona livelli quello sversamento negato è finito sotto inchiesta perché in un primo momento avevano negato lo sversamento d'altra parte è avvenuto proprio la notte di domenica quando si stava votando contro le trivellazioni quindi guarda che coincidenza la testimonianza inedita lionezza ammiraglio della guardia costiera nella notte tra il 21 e 22 gennaio 2013 la piattaforma show ross o mare ha sversato petrolio nell'aria tipo l'azienda nega tutto ma la procura di larino indaga su tre dirigenti di edison ipotesi di reato il sastro colposo ecco come abbiamo rischiato una marea nera questo successo il 22 gennaio 2013 ed è stato pubblicato nel 14 aprile 2016 cioè pochi giorni prima del referendum in pratica perché doveva passare preferendo perché già nel 2013 c'è stato uno sversamento di petrolio come quello che è successo il 17 18 aprile di adesso di quest'anno lo sversamento di petrolio arrosto mare c'è stato è un fatto innegabile ma la notte tra il 21 22 gennaio 2013 aveva ancora i gradi del comandante cuciti sulla divisa capo della direzione marittima brutto molise a l'ammiraglio luciano pozzolano e recentemente andato in pensione dopo 40 anni carriera nel corso della guardia costiera ma la notte tra il 21 22 gennaio 2013 aveva ancora i grandi del comandante avrà avuto delle responsabilità non si sa genova si rompe tubatura della iphone e rischio a petrolio mare 17 aprile 2016 incidente a fegino i vicini del fuoco stanno cercando di bloccare la sostanza ci sono successi decine decine di sversamenti petrolio lo scoppia l'allarme il rumore di una riga crollata e poi l'onda nera ci sono decine di pagine che si rompe il tubo versamento di petrolio nel pollice pollice vera usate la nazione pollice vera genova dopo le 19 30 qualcuno dice le 20 21 ma interessante che io trovo notizie gli sversamenti anteriore anteriori al 2016 del 2013 del 2011 versamento di petrolio in torrenti a genova indagine per il disastro colposo e sequestro impianto il disastro colposo ambientale sciagura ambientale e poi sempre sempre le stesse descrizioni della rottura della trovatura lo sversamento del petrolio vicino a genova è venuto domenica la domenica e lunedì si sta cercando di contenere la perdita e capire cosa l'abbia causata adesso se lo sversamento del petrolio vicino a genova fosse avvenuto il giorno prima del referendum probabilmente a genova si sarebbe raggiunto il cuore nel referendum contro le trivellazioni e per la sostanzione delle concessioni sempre che non abbiano fatto un boycott del referendum non ci scordiamo che il primo referendum della repubblica nel 46 era fra monarchia e repubblica e si dice che non aiutino alla repubblica gliela abbiano dato si rompono nel dato a genova e troviamo male sempre la solita schiuma allarme petrolio mara genova valuteremo la richiesta dei danni potremmo chiedere lo stato di emergenza dice totti terminato il sopra luogo sopra luogo scuole chiuse a borzoni di fronte alla criticità della situazione gli abitanti delle zone limitrofe sono stati invitati a ricarsi nelle proprie abitazioni sono stati attivati i dirigenti del plesso scolastico di borzoni per chiudere le scuole e si è provveduto a chiudere via borzoni e aperta stamattina senso unico alternato e quanto si legge nel comunicato dei comuni di genova il quale si rende noto che contestualmente i vigili del fuoco hanno avviato tempestive azioni di schiumatura posizionamento di panni con funzioni di barriera operazioni per le popolazioni poi eseguite del personale della stessa età sul grito del polce vera nella zona di via perlasca di fronte all'ikea è stato poi avviato un intervento tuttora in corso per cercare di impedire il diflusso mare del greggio svolto congiuntamente dei vigili del fuoco da un'impresa specializzata l'obiettivo è quello di separare il combustibile dall'acqua del torrente per poi aspirarlo e nei giorni prossimi procedere alle operazioni di politica vabbè io ho letto quando in cellulare non figurano ci saranno migliaia di pagine io ieri ho voluto fare uno streaming un video streaming in youtube l'ho fatto in bassa risoluzione con cellulare motorola motorizzi secondo genuzione vado al cellulare ma vi rendete conto è pazzesco le stesse persone che non sono andati a votare al referendum contro le tribellazioni per cambiare alle energie alternative io magari le ho viste nel dg della mattina e del pomeriggio ed è la sera a urlare sbraiettare a mettersi le mani tra i capelli a gridare imprecare sputanare non ne possiamo più ce ne dobbiamo andare dal borgo di borzoli i nostri figli non possono andare a scuola è una cosa indecente si sentono ad ora nata idrocarburi che ti fa male che ti brucia dentro che ti fa venire mal di testa non puoi aprire le finestre di casa perché c'è un odore a idrocarburi non puoi tenere le finestre chiuse perché si satura l'ambiente di odore a petrolio a idrocarburi a sostanze volatili aromatiche sono cancerigine se le respiri anche sarebbe servito votare sia al referendum anche casi come questi involontari e sversamenti di petrolio non succedessero perché gli incidenti succedono involontariamente ecco quindi tutta quella brava gente che adesso purtroppo soffre dell'asferenzamento di petrolio in borzoli venezia colonna venezia credo venizia si è tutta quella brava gente adesso si lamenta giustamente dei danni collaterali di uno sversamento nei loro fiumi nelle loro acque potabili nelle loro terre nell'irrigazione delle loro terre coltivabili quindi è un danno ambientali a grande impatto ambientale perché da quelle parti c'è un grande indotto agro gastronomico cioè si coltivano quelle terre si irrigano quelle terre con quell'acqua che petrolio avvelenato che il crudo avvelenato greggio però e quelle brave persone non hanno capito che dovranno andare a votare sia referendum per evitare quello sversamento provocale di maghi e fluvi petroliferi certo si votava il 17 il disastro è avvenuto providenzialmente tra la notte del 17 e le prime ore del mattino del 18 per cui molti di loro ne erano gli anni quando andarono a votare è arrivato providenzialmente per far vincere l'astenzionismo io credo che se fosse successo due o tre notti prima della data del referendum il 17 aprile molti di loro indignati si avrebbero andati a votare sì quindi ci sarebbe stato un 80 un 90 per cento di voti a favore del sì al referendum del 17 aprile ma siccome si è consumato qualcuno dice alle 19 30 qualcun altro alle 22 lo sversamento di petrolio allora molti molti se non si confrontano con una disgrazia vera non possono immaginarsi per astratto che può succedere che può succedere e quindi pensavano che quelli che proponevano sia referendum erano soltanto degli allarmisti certo non possiamo fare a meno di usare petrolio per il momento perché le energie alternative sono ancora troppo giovani la tecnologia non è ancora molto sviluppata e l'industria dipende dagli idrocarburi e dal nucleare ma estrarlo dal suolo italiano come si è visto implica rischi di inquinamento disastri ambientali e anche la salute della gente adesso tutte quelle sostanze aromatiche tutti quegli idrocarburi giacceranno per decenni nel posto nell'acqua nel cibo e a molti gli vendrà il cancro certo non si può dire che si poterà impedire con un sì lo sversamento di petrolio con un signor referendum però se fosse avvenuto prima e avesse vinto il sì si poteva togliere la concessione alla vita che ha fatto lo sversamento alla ikea e si poteva tappare per sempre il giacimento petrolifero invece adesso continueranno a sfruttarlo come se non fosse successo nulla quindi io trovo interessantemente paradossale che le persone che adesso si lamentano e tutti questi gravi danni che avranno ripercussioni nei decenni a venire perché non è che si pulisce tutto finisce si sono inquinate di queste sostanze di questi no carburi di queste sostanze aromatiche petrolifere sono inquinate le sorgente gli sorgenti sotterranei quindi bisogna vedere nei decenni quanti malati di tumore di lucemia di carcinomi di cancro ci saranno spero di no però molto probabili e poi è un rischio anche perché molte zone saranno dichiarate non nate alla coltivazione per il consumo umano quindi a parte coltivare rosse e cipresi non ci sarà posto per nulla ci sarebbe un inquinamento che ha avuto un impatto sugli animali sulla flora sui ricorsi umani sugli esseri umani e niente ecco trovo tristemente ironico che le persone che sono corse si sono precipitate a lamentarsi di questo sversamento sono le stesse che poi non sono andati a votare non hanno avuto coscienza ambientale ecologica quando si trattava di votare al referendum perché hanno creduto a quello che gli diceva il governo giorgio napolitano matarella renzi e tutti gli amici dei petro chimici però hanno coscienza ambientale quando soffrono un disastro in carne propria allora si crescono alla strada a protestare a esigenere ma che ti esigi tu hai fatto il possibile per evitare queste catastrofi ambientali sei andato a votare invece di andare al mare per salvare il mare i fiumi e le tue terre no e allora fortiti o come direbbe il grande alberto sordi ma sta zitto e vedi da andartene a fa culo o a pia grande al culo in derbucia del culo va bene la legge di causa effetto del karma tu non voti stai con i petrolieri e petrolieri ti inquinano adesso non si può contare con gli strumenti referendari del sì per chiudere tutti i pozzi petroliferi più aclari locali d'italia ci saranno altri sversamenti come c'è stato che ho letto prima nel 2013 in anni anteriori che sono sempre stati sentiti per questo degli ammirali tanto nel nord come nel sud italia sono stati messi sotto inchiesta tangenti corruzioni mazzette per non dichiarare gli incidenti nelle piattaforme petroliferi e gli insiderizzamenti petroliferi di quella cloaca nera che ci serve per l'energia ma che ci finirà uccidendo con l'inquinamento perché anche quando si disperda inquina non solo quando si brucia questo è stato il mio commentario più e stesso alla notizia che come era da aspettarsi il referendum non ha avuto quorum perché quasi mai ha avuto quorum referendum e quando ha avuto quorum si è discusso il risultato filosoficamente fino a che sia che abbia vinto il sì sia che abbia vinto il no è come se non avesse vinto nulla infatti i partiti continuano ad avere le loro finanziazioni pubbliche la chiesa ricevere i soldi dallo stato quest'anno non ci è arrivato nella busta noto per mille o il 5 per mille da destinare a chi uno vuole quindi lentamente i giornali hanno le finanziazioni pubbliche di nuovo si sa che i deputati 5 stelle anche loro sono arrivati a guadagnare come gli altri deputati e senatori in italia politicamente socialmente ed economicamente parlando è sempre stato il prostibulo che si è gestato ognuno si fa i cazzi e io con questo in quel con questa nuova consegna vi lascio spero a tutte e tutti voi stiate bene ringrazio di seguirmi niente cercherò di continuare a fare dei video mi raccomando diffondete fra i vostri parenti amici familiari nemici e anche conoscenti vicini di cassa contatti in internet i miei video perché sono disoccupato mi piacerebbe che youtube mi arrivasse a pagare qualcosa quindi mi ha commiato da voi arrivederci e dalla prossima questo è tutto per oggi grazie 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 grazie